La guerra è tutta un'altra cosa, questo paese ha vissuto momenti peggiori, tutto questo passerà di sicuro e allora dovremo dimenticare e andare avanti. Sono le parole di Gilberto Malvestuto, l'ultimo ufficiale sopravvissuto della Brigata Maiella, l'unica formazione partigiana decorata con la medaglia d'oro al valor militare della resistenza. Oggi Malvestuto ha spento 99 candeline e inteso lanciare un messaggio ben preciso, occhio a chiamare guerra, l'emergenza sanitaria è in atto, nemmeno per scherzo, lo abbiamo raggiunto tramite alcuni familiari. Gilberto Malvestuto, nato a Sulmona il 17 aprile 1921, è stato comandante della sezione mitraglieri della compagnia pesante mista della Brigata Maiella. Si arrolò nella Brigata Maiella Reganati dopo che la formazione partigiana aveva contribuito alla liberazione del territorio abruzzese, fine comuni della Valle Peligna, giulio del 1944, del resto della regione Abruzzo e poi delle Marche fino a Pesaro. A Recanati Malvestuto fu assegnato al comando della sezione mitraglieri della compagnia pesante mista. Prese parte a duri combattimenti per lo sfondamento della linea gotica e per la liberazione dei comuni di Monte Castellaccio, Brisighella, Monte Mauro, Monte della Volpe, Monte della Siepe Castel San Pietro. All'alba del 21 aprile 1945, malvestuto alla testa della sezione mitraglieri della Brigata Partigiana Abruzzese, entrò a Bologna con le prime truppe liberatrici della città. Riconsegnò il fucile mitragliatore il 20 luglio 1945. L'augurio è quello di trascorrere un altro anno in salute e serenità fino al prossimo 17 aprile quando, per l'ufficiale Gilberto, arriverà l'ambito traguardo e secolo di vita. Aguri dalla redazione di Onda DG.